Benvenuti su un nuovo video, sono Orko Verde In questo video vi farò vedere una nuovissima glitch per avere il personaggio femmina senza reggiseno Per fare questo glitch ovviamente dovete avere il personaggio femmina poi dovete andare su completi, completi con pantaloni business e dovete indossare il completo che si chiama la libertina Quando avrete indossato questo completo dovrete andare su parti superiori a questo punto dovete selezionare una qualsiasi giacca o felpa che sia aperta mi raccomando ragazzi l'importante è che sia aperta e come vedrete scorrendo le varie giacche aperte il personaggio femmina le indossa senza reggiseno cosa che non succede se non indossate il completo che si chiama la libertina a questo punto ragazzi vi basterà indossare quindi confermare con X una qualsiasi giacca aperta quella che preferite nel mio caso il soprabito biker uscito nel DLC centauri una volta fatto ciò potete salvare il completo tra i completi salvati niente ragazzi questo è il glitch facile e veloce spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale condividete questo video sui vari social network e da Orkover ti tornici da un prossimo video bella